Musica Ad Afragola stamattina sono stati arrestati due sacerdoti della Basilica di Sant'Antonio per violenze sessuali su due ragazzi. Anche altre quattro persone sono finite in manette perché proprio sul mandato di uno dei due preti avrebbero rapinato le vittime per sottrarre loro i cellulari e così eliminare le prove degli abusi. Il servizio di Rita Giacquinto. Tutto è cominciato dalla denuncia di due uomini di Afragola per aver subito una rapina in casa loro. Due persone armate con una mazza e coltello erano entrate in casa loro portando via i telefoni cellulari. Sono cominciate così le indagini dei carabinieri di Afragola coordinate dalla procura di Napoli Nord. Indagini che in poco tempo hanno portato alla scoperta dei due responsabili della rapina, nonché il movente. Nei cellulari rubati erano documentati infatti con video e chat gli abusi sessuali subiti dalle due vittime. I carnefici erano i due sacerdoti arrestati. Padre Domenico Silvestro, parroco della Basilica di Sant'Antonio da Padova da Afragola e padre Nicola Gildi, frate del convento di Santa Maria Occorrevole a P di Montematese nel Casertano, sono stati arrestati all'alba di questa mattina per abusi sessuali e rapina aggravata. Uno dei due padri Gildi, che all'epoca dei fatti era a distanza anche lui nella Basilica di Afragola, aveva commissionato la rapina per nascondere le prove, per paura che lui e padre Silvestro potessero essere denunciati. E si era rivolto quindi a due conoscenti che hanno ingaggiato a loro volta i due autori materiali della rapina. In tutto infatti sono sei le persone tratte in arresto dai carabinieri. Oltre ai due prelati sono stati presi un uomo di 52 anni e un altro di 43 di Afragola, a cui padre Gildi si era rivolto per organizzare la rapina, ma anche un giovane di 20 anni di San Vitaliano e un 19 anni di Barigliano, che sono poi i due giovani che hanno materialmente commesso la rapina. Gli abusi protratti nel tempo erano fatti in cambio di favori, aiuti non solo in ambito lavorativo per le due vittime, ma anche a livello sociale, come la fornitura di abiti, indumenti, alimenti, insomma tutto il necessario alla loro sopravvivenza. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social di Facebook, Instagram o Twitter, oppure sui nostri canali di TikTok o YouTube. Potete anche sempre consultare il sito www.nanotv.it